ciao io sono alba e sono una consulente con mari aiuto le persone disordinate a fare ordini fuori e dentro di sé ciao a tutti io sono alba vi do il benvenuto a questo mio primo video in cui voglio darvi cinque consigli che possono essere una piccola introduzione a quello che poi è il grande mondo dell'ordine bisogna un po diciamo imparare piano piano e secondo me già sfatare qualche mito può aiutare in quello che sono magari le nostre abitudini e migliorarle allora la prima regola d'oro è non si riordina a zone ma per categorie quindi al posto di iniziare dalla cameretta dal bagno dalla cucina dal salotto inizieremo dal categoria dei vestiti categoria dei libri categoria dei documenti delle carte la categoria degli hobby ad esempio quello che riguarda magari una passione come la fotografia e quindi tutta attrezzatura e così via fino anche all'album dei ricordi di aree di quando erano piccoli eccetera eccetera queste sono categorie e in questo modo si riesce a essere ordinati infatti se immaginate magari a una di queste categorie pensate a dove sono nella vostra casa può essere che si trovi in più zone e non tutte in una stessa zona ad esempio magari abbiamo dei libri in una libreria in camera ma abbiamo altri libri in un'altra libreria magari in sala ecco in questo modo cosa faremo al posto di fare prima i libri che sono nella cameretta e poi quelli che sono in sala noi prenderemo tutti i libri e inizieremo a riordinare tutti insieme la seconda regola d'oro invece è quella di non avere fretta e quindi di darsi il proprio tempo nel senso che dipende proprio solo esclusivamente da te secondo di quanto tempo ci impiegherai a riordinare la tua stanza la tua casa questo perché perché spesso ci si diciamo ci si prefigge di fare cose in un tempo molto limitato e questo ci porta magari a farle frettolosamente in un certo senso sopravvalutiamo quello che possiamo fare in qualche giorno in pochi giorni rispetto invece a quello che possiamo fare sul lungo tempo di conseguenza quello che è il mio consiglio è quello di iniziare dire oggi inizio e vediamo quanto tempo mi prenderà perché non si rimanda niente ogni singola cosa che hai deve essere analizzata deve passare per le tue mani sotto il tuo occhio quindi se hai tante cose ovviamente ci metterai più tempo rispetto a una persona chiara di meno e quindi già lì la valutazione può essere il punto differente la terza regola d'oro invece è quella di compiere questo festival da solo o se in compagnia di un professionista perché perché spesso essere in compagnia di un amico o di una persona che ti può rallegrare ti può aiutare a tenere alto il murale spesso è una distrazione spesso magari quando riordinate magari mettete la musica sotto in realtà bisognerebbe non avere nessun sottofondo musicale perché la musica ci distrae dai nostri pensieri in un certo senso ne siamo più concentrati a quello che ascoltiamo rispetto invece ad ascoltare quello che i pensieri che salgono nella nostra mente che risalgono la nostra mente e quelli sono dei pensieri molto importanti che devono essere analizzati perché spesso noi cerchiamo di rimandare di evitare certi pensieri ma nel momento in cui tu fai questo atto di questo metodo sei costretto a ripercorrere un certo senso un po di step della tua vita perché ogni oggetto che prenderai che troverai avrà un significato per te positivo negativo bello brutto importante non importante e tu devi essere presente in ogni istante e diciamo in qualche modo cogliere quello che tu stai diciamo ricordando e decidere se ricordarlo e quindi tenerlo oppure dimenticarlo e toglierlo diciamo metterlo via da parte e quindi buttarlo o regalarlo la quarta regola d'oro è per l'appunto creare due sacchi mettiamola così quando facciamo la cernita esiste il sacco di tenere e il sacco del buttare via non esiste il lo riguardo lo ci penso non ci penso in quel momento di prendere una scelta ed è questo diciamo la fase cruciale e all'inizio ma è proprio la fase più importante più staccante e anche un po più complesso delle volte ci si blocca anche alcune volte ci capita che mentre da fare delle scelte ci capitano degli degli oggetti che per noi possono essere un po più importanti di altri e infatti sono quelli che quando ritroviamo ci fanno un po riflettere ci fanno ci danno uno stato d'animo un po diverso rispetto agli altri su alcuni siamo sicuri che lo vogliamo tenere siamo contenti su altri sappiamo che non ci piacciono e non sappiamo nemmeno il perché ci abbiamo ancora altri non sappiamo nemmeno perché esistano e quindi vabbè vanno direttamente scartati alcuni ci fanno riflettere quelli che ci fanno riflettere sono i nostri ostacoli che dobbiamo superare in effetti non esiste nessuna vittoria senza diciamo aver superato gli ostacoli e in questo percorso gli ostacoli in realtà te li sei messi tu nella tua vita e ora li stai ritrovando diciamo mentre stai riordinando e questi ostacoli devi decidere una volta per tutte di superarli l'ultima regola d'oro la quinta sarebbe quella incredibile ma vero una volta che fai la cernita sarebbe l'ideale per mantenere un ordine puro quello di non avere il cambio stagione cioè avere un armadio dove tu hai tutto a vista l'unica cosa che si possono diciamo appunto ammettono il cambio stagione sono le coperte le lenzuola o per dirti i cappotti quelli magari molto pesanti invernali che occupano molto spazio e quindi magari possono essere ridotti con quelle sacche ad aria ma altrimenti il cambio stagione non esiste quindi ti ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo ciao